buongiorno buongiorno e ben ritrovati a tutti voi cari telespettatori di fano tv questa è la rassegna stampa del mattino che come tutti i giorni anche se in questi ultimi giorni abbiamo avuto il nostro bel da fare ma insomma ci stiamo rimettendo in carreggiata piano piano perché comunque sapete che quando ci sono le ristrutturazioni quando cambia radicalmente tutto quanto l'impianto insomma qualche strascico c'è sempre quindi ci vorrà ancora qualche giorno per rimetterci in sesto ma lo stiamo facendo per per migliorarci chiaramente per migliorare la qualità del suono per migliorare la qualità del video per cercare di raggiungere il più alto numero di persone possibile lo faremo anche nelle prossime settimane diventando una tv regionale quindi stiamo lavorando anche per questo quindi da piccola televisione cittadina che eravamo nel 2005 nei prossimi nelle prossime settimane insomma copriremo tutta la regione marche quindi insomma abbiamo bisogno dei nostri tempi per lavorare non siamo la rai non siamo sky non siamo mediaset siamo una piccola televisione comunque e quindi con tutti i nostri limiti e le nostre difficoltà comunque siamo qua ringraziando il cielo allora cominciamo con il santo del giorno vediamolo subito la grafica dovrebbe esserci eccola qui santa pelagia il sole è sorto alle 7 e un quarto e tramonterà alle 18 e 37 minuti il tempo per la giornata di oggi avremo cielo poco nuvoloso al mattino con aumento della nuvolosità dal pomeriggio e cielo nuvoloso in serata le precipitazioni saranno dal tardo pomeriggio deboli localmente dalla notte invece rovesci sparsi lungo la costa centro settentrionale quindi ci interesserà in maniera particolare sulla provincia di paese rubino in diminuzione lieve le temperature minime in aumento invece le temperature massime attenzione ci sarà anche vento moderato nella seconda parte della giornata e il mare diventerà mosso domenica domenica è una giornata vedete tanta tanta roba anche scritta ci sono i temporali lungo la costa come abbiamo detto a partire da stasera con rovesci anche domani mattina domani mattina interesseranno tutta la parte della costa in particolare la provincia di ancona e quella pesarese fenomeni saranno in esaurimento nel pomeriggio ad eccezione dei rilievi meridionali dove saranno possibili ancora brevi rovesci fino alla serata le temperature sono in aumento nei valori minimi dunque domani giornata perturbata con temporali stessa fotografia stessa situazione con rovescio temporali sparsi più insistente lungo la costa almeno fino al tardo pomeriggio di lunedì nella giornata del 10 di ottobre e questa è la situazione prevista dalla protezione civile delle marche lo stazionamento di questo sistema depressionario sull'europa centrale manterrà dunque condizioni di tempo instabile anche per lunedì e martedì adesso andiamo a leggere il giornale abbiamo il corriere adriatico il resto del carlino bisogna che ve lo comprate in edicola questa mattina così come il corriere adriatico chiaramente leggiamo i titoli soltanto velocemente allora intanto la notizia che arriva e che viene pubblicata in prima pagina è questa pesero è città dello sport è ufficialmente la città dello sport 2017 giochi dell'adriatico è una bella sfida ora è ufficiale è stata accolta la candidatura a novembre ci saranno le cerimonie a roma e a bruxelles purtroppo la cronaca ci riporta ad un fatto accaduto ieri a fano a fano c'è stato questo ritrovamento nel canale albani di un fanese di 44 anni che era scomparso da mercoledì da due giorni la sua bicicletta è stata ritrovata in via kennedy il corpo purtroppo senza vita ripescato dai vigili del fuoco questa è la prima pagina del corriere adriatico andiamo però a vedere nel dettaglio un po' questa bella sfida che alla quale tutta la città di pesero ma ci metteremmo certamente anche la nostra città un po' tutto l'entroterra tutto il territorio questa sfida del chiamiamole olimpiadi di pesero insomma pesero alla sua olimpiadi infatti questo è il titolo questa candidatura città europea dello sport che è per il 2017 l'8 ottobre ci sarà questa cerimonia a roma il 16 invece a bruxelles un bel colpo d'immagine ma adesso vanno completati gli interventi programmati soprattutto agli impianti sportivi già in calendario ci sono i campionati mondiali di ginnastica intanto nuovo centrodestra chiede di nominare un comitato tecnico scientifico da valentino rossi a magnini la carica dei testimonial anche tanti campioni locali hanno contribuito hanno contribuito a questo successo in tanti si sono spesi qui vedete matteo ricci il sindaco con sul campo da calcio con il pallone ma dicevo tanti si sono spesi dal basket al motociclismo al appunto al nuoto affinché pesero avesse vedete qua sotto valentino rossi avesse questa questa manifestazione si prepara un lungo anno di iniziative manifestazioni e anche celebrazioni poi andiamo sull'altra pagina di pesero del corio adriatico la prima fiction su lucia nibali ecco qua in onda sulla rai il 25 novembre donne un accordo antiviolenza lucia nibali la sua rinascita un simbolo per tante donne è stato siglato un protocollo per attivare gestire una rete di percorsi in aiuto alle vittime e poi la pagina di fanno eccola qua muore annegato nel canale albani era scomparso da casa da due giorni andrea mancini questo il nome 44 anni è stato ripescato dai vigili del fuoco incertezza sulla causa della caduta in acqua il legale della famiglia dice non aveva mai manifestato né intenzioni suicide né malesseri era un appassionato scrive ancora il corriere di lettura e di musica due grandi passioni che hanno accompagnato andrea mancini nei suoi 44 anni di vita che si sono spenti purtroppo ieri in una terribile giornata di ottobre questo è il luogo siamo sulla darsena borghese vedete il luogo in cui è stato ritrovato purtroppo senza vita il corpo di andrea sotto invece il regista fanese andrea lodovicchietti che dice e invita a scaricare un'app che è un'applicazione sul telefonino per scoprire i veicoli rubati lodovicchietti su facebook invita a prevenire i reati in situazioni sospette rapina caccia alla banda dell'est parliamo di questa rapina che è avvenuta a lucrezia e che ha generato certamente paura tra i residenti l'altra notte in via pilone 17 dove tre malviventi con il volto camuffato sono entrati in casa per rubare denaro e preziosi ma hanno finito per svegliare anche i residenti che per circa mezz'ora sono stati legati e minacciati costretti a sedere sul letto a guardare gli estranei che rovistavano in tutti i locali il valore del bottino all'incirca è di 4 mila euro però insomma c'è questa 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 rapina che certamente non solo a lucrezia ma un po' un po' tutti insomma quando leggiamo queste notizie ci genera paura ci genera sconforto e adesso il sindaco di di lucrezia erico rossi dice installeremo altre telecamere ce ne sono già diverse in giro per il paese però ecco adesso dice per evitare che si ripetano o comunque per aiutare gli inquirenti erico rossi lo vedete nella fotografia dice adesso metteremo altre telecamere la villetta della famiglia vedete rapinata giovedì notte lucrezia mentre nel riquadro il sindaco di cartoceto si alla fusione in aset servizi questo è il nuovo parere legale che è favorevole il progetto sarà consegnato alla giunta comunale di fano il 15 ottobre e deliberato entro il 31 di dicembre in commissione di controllo aguzzi ha lamentato la perdita di 2,7 milioni per i ritardi la stagione è gloriosa delle radio libere il quarantennale sarà celebrato domani e i protagonisti saranno alla casa della musica e sempre le 16 di domani verrà inaugurata la casa della musica la mostra di otto modelli di storiche batterie appartenenti alla collezione di daniele carboni e ci sono su questo argomento chiaramente fanno a due oggi attualmente attive due radio ma nella storia della città insomma ne ricordiamo almeno tre tante anche nell'interland pesarese purtroppo hanno chiuso da radio tutte le più o meno le città come fossombrone saltara montemaggior a metauro hanno avuto nel tempo le loro radio libere le loro radio locali che poi purtroppo sono state spente per varie questioni ecco questo appuntamento servirà anche per ricordare tutte queste radio e dove è possibile anche i protagonisti di queste avventure pionieristiche due conferenze al mese per riflettere sugli stili che si sono susseguiti dagli anni 50 ad oggi poi si parla di letteraria letteraria è questo evento che si occupa di cultura la premiazione dopo gli incontri il titolo dialogo con studenti e pubblico stasera la cerimonia in sala verdi ok andiamo sulla pagina della valle del cesano da mondolfo sono in arrivo 18 migranti la giunta non vuole allarmismi dovrebbero essere ospitati in alcuni appartamenti nei pressi delle vele mentre la pagina di senigallia eccola qua multe ai minori presi con l'alcol ma i genitori li difendono in quattordici si rifiutano di pagare la sanzione un'altra sedicenne finisce in ospedale anche senigallia ha problemi l'abbiamo visto anche con pesaro qualche giorno fa ma ha problemi ma un po' in tutta italia ahimè il fenomeno con il fenomeno dell'abuso di alcol tra i giovani che è sempre più diffuso infine termosifone si stacca dal muro di una palestra una ragazzina rimasta ferita alla scuola vallone per una pallavolista di 11 anni che è stata colpita in un piede la rassegna stampa finisce qui io vi ringrazio per averci seguito vi auguro una buona giornata e vi ricordo che l'informazione torna lunedì alle 20 e 30 con il telegiornale c'è anche il nostro sito internet occhialanotizia.it prima di salutarci permettetevi e lo faccio subito di salutare un amico una grandissima persona che non c'è più si tratta di franco grasso direttore di tv marche che ci ha lasciati questa notte ora è in cielo e ci guiderà tutti da lassù un grande amico una grandissima persona straordinaria che ci mancherà tantissimo ciao franco grazie grazie a tutti 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 grazie a tutti